Salve tutti e bentornati di questo nuovo tutorial ragazzi di questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo alla mancanza proprio della memoria video su Fortnite che quando avvii Fortnite ti esce l'errore ovviamente chiudiamo un attimo Fortnite ti faccio vedere l'errore ed ecco l'errore della memoria video esaurita che non si alloca così alla texture e quindi in questo caso bisogna avviare Fortnite in un'altra modalità di rendering se non dovesse funzionare faremo altri metodi quindi in questo caso andiamo un attimo su Epic Games vai nella libreria tre puntini opzioni ed eccole qua shader DirectX 12 tu devi togliere questa shader DirectX 12 da 6.66GB togli anche la textura ad alta risoluzione li togli tutte e due poi fai applica e basta e poi per scaricare le strussi trasmesse questa la devi tenere attiva una volta fatto tre puntini gestisci opzioni di avvio o lo avvii nella modalità di rendering DirectX 9 10 o 11 quindi in questo caso vai a scrivere DX9 o DX10 oppure DX11 lo avvii in queste tre modalità di rendering quindi ti consiglio quella della 10 io lo avvio sempre in trattino DirectX 11 se non dovesse funzionare andiamo direttamente su grafica impostazioni grafica vai su quindi scegliamo così la nostra applicazione facciamo sfoglia andiamo direttamente nella cartella di Fortnite Fortnite, Fortnite Game, Binarys, W64 e metti Fortnite Launcher una volta messo Fortnite Launcher scendi fino a giù fino a trovare Fortnite, prestazioni elevate, opzioni, prestazioni elevate e fai salvo se non dovesse funzionare con quest'altro metodo c'è sempre la soluzione di chiedere il supporto a Epic Games e quelli ti risponderanno per via email ovviamente ti ho lasciato in descrizione anche il link che ti porterà sulla pagina di Epic Games eccolo qua, vai su Fortnite scendi fino a giù fino a trovare il contattaci ed eccolo qua metti il tuo nome, la tua email così facendo ti contatteranno piattaforma, scegli la piattaforma Fortnite, motivo per cui stai contattando non è account, connessione, ripetizione del codice d'errore, segnala le modi eccolo qua codice d'errore, descrivi il tuo problema descrivi così il tuo problema riguardo che quando avvio Fortnite c'è mancanza di memoria video che non riesce ad avviarsi Fortnite e poi selezioni così il file e il file è questo qua gli fai uno screenshot dell'errore che ti è uscito e glielo mandi invia una richiesta per email e ti risponderanno per via email se questo video ti è stato utilissimo come risolvere l'errore riguardo alla mancanza di memoria video su Fortnite iscriviti, lascia like per altri problemi commenta sotto al video e io cercherò di fare altri tutorial in futuro grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao